Abbiamo registrato nello studio del ragazzo che vedete, forse, in platea da massi. Abbiamo registrato durante le lunghi quarantena che è nato uno sfovo e io insieme a Alfredo che per te abbiamo sonato tutti gli strumenti e questa è l'unica canzone che è nata la chitarra e la voce e questa è l'unica canzone che è nata la chitarra. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti 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 Grazie a tutti